amici di twitch buonasera a tutti vi siamo mancati come state tutto bene ma buonasera scrivono buonasera buonasera a tutti voi a noi ci siete mancati un sacco infatti tre giorni per loro ma per me ormai quasi una settimana un'eternità un'eternità ormai eri in ferie quasi infatti mi ci stava abituando già mi vedevo piscina al mare col lettino mentre loro facevano il grosso invece no invece no perché questi questo è il nostro format di punta in questo format di punta io devo esserci perché se lasciamo tutto in mano a luciano fa un casino ci sei mancato man che carini buonasera il doreen buonasera a tutti comunque questa sera episodio 232 di live talks il nostro format che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop quindi parliamo di no non fare così in mano il 10 diamo a cesare quel che dice quindi insomma parliamo di recitazione doppiaggio gaming che azioni contenuti musica sceneggiatura regia tante belle cose wfx e questa sera siamo molto contenti di avere con noi manuel meli manuel grazie grazie a voi sono molto emozionato è la prima volta per me da solo è tornato è vero è vero bentornato sei recidivo tra l'altro quindi se questa live andrà malissimo sappi che la colpa è comunque tua perché sei tornato una seconda volta ecco questo occidentale ma lui ci ha voluto dare una seconda possibilità prima del blocco capito del blocco dai vado un'altra volta abbiamo fatto malissimo a far venire luciano stasera perché con lui è un blocco assicurato va bene comunque prima di passare la nostra bella chiacchierata andiamo a fare tutte quelle formalità che sbrighiamo in 12 minuti così non ci blocchiamo dopo il saluto ai nostri mod i moderatori sono la polizia del canale jackie jack e fanpage sono coloro che prima vi sospendono e poi vi bannano qualora non siate in disaccordo con noi perché ben venga e siete in disaccordo con noi però qualora siate scortesi educati insomma con i modi non consoni a quello che noi vogliamo per la community del canale poi salutiamo i nostri vip che hanno il saluto personalizzato quindi mister lannister tommy rolando e simona otto che sono gli irriducibili del canale ovviamente un saluto anche a tutti gli altri vi vedo siete bellissimi andrea diciamo in 30 secondi comandi chat ti faccio però dico comunque comandi chat aspetta adesso mi ha rovinato la musichetta te la metto una seconda volta bene punto schiamativo telegram vi permette di rimanere aggiornati su tutte le nostre attività su tutte le nostre informazioni quindi live eventi dal vivo ospiti insomma tutto ed è gratuito cliccate fate punto schiamativo sub vi rimanda un link per sottoscrivere l'abbonamento a questo canale che vi permetterà di saltare tutte le pubblicità recuperare gli episodi passati usare l'emoticon di luciano con la parrucca bionda che ultimamente vedo vi sta piacendo moltissimo e soprattutto potete entrare nel nostro gruppo esclusivo su telegram dove ci siamo noi anche altri ex ospiti a parlare un po' del più e del meno punto schiamativo ospite vi rimanda all'instagram di manuel mi raccomando seguitelo tutti ma sempre con rispetto comunque non stalkerato non rompete gli troppo i coglioni a debita distanza ma seguitelo punto schiamativo quote vi pesca dal calderone delle nostre fasi storiche delle frasi che sono rimaste nell'epicità scolpite proprio nell'immortalità del nostro canale e ovviamente questa sera magari manuel ce ne lascerà qualcun'altra magari no questo lo scopriremo e dipenderà soprattutto da lui punto schiamativo partners roba doppiatori e le voci del doppiaggio punto schiamativo website il nostro sito web bene bene non hai fatto così schifo come avrebbe fatto lucio quindi grazie per averci deliziato con la tua voce il suo deno visto visto meno male che adesso parla manuel così almeno recupera la mia voce state facendo delle domande perché nuovo io vi ricordo che fate bene a farle fate bene a evidenziarle così dopo che scorro con la chat non mi perdo nei vostri commenti che comunque ci fa piacere che commentiate dissing a lucia sì ma lucia non è abituale invece verranno lette e poste nella seconda parte della live quindi se volete che la vostra domanda magari venga letta dovete stare fino alla fine se no facile adesso leggiamo la domanda bello ma letta la domanda me ne vado invece no questo è un bel trucco per tenervi qua in collato furbacchione eh ma quante ne sa il menno eccoci manuel allora guarda noi non abbiamo nulla di preparato perché ci piace vedere dove ci porta la conversazione se non la prima domanda che è uguale per tutti ti vado a porre con un piccolo preambolo che è inutile però piace la chat quindi te lo faccio uguale noi vedi noi la mattina no magari ci alziamo ci svegliamo incontriamo dieci persone e in base a come noi ci poniamo con loro magari con qualcuno scortese con qualcuno simpatica queste dieci persone avranno dieci immagini diverse di come noi siamo però è interessante dal nostro punto di vista vedere come il nostro ospite vede se stesso quindi io ti andrei a chiedere chi è manuel non tanto dal punto di vista professionale perché ne parleremo dopo quanto proprio dal tuo punto di vista per quel che riguarda aspetti caratteriali passioni dobi che esulano però l'aspetto prettamente lavorativo allora bella domanda complimenti allora aspetti caratteriali sono molto giocoso giocherellone però insomma quando serve sono anche essere serio sono soprattutto un buon ascoltatore magari c'è un amico in difficoltà servono consigli insomma per quel che posso fare sono una persona abbastanza no abbastanza sono una persona leale per quanto riguarda i difetti invece sono un po per malosetto e rosicone neanche troppo competitivo negli sport che siano dal vivo o ludici tipo fifa eccetera eccetera e non è una cosa negativa o positiva diciamo che ho delle mie fisse delle mie fisse anche un po' ansiose ansiogene che stanno andando meglio diciamo che soprattutto l'estate scorso ha avuto un periodo un po così sono facilmente suggestionabile ecco però dal lato significa anche avere no magari una spiccata sensibilità una persona più o meno normale dai più o meno normale già ci ha dato degli spunti però prima di andarli un po approfondire ti chiederei invece le tue passioni oltre il tuo lavoro per quel poco tempo immagino che ti rimangono perché è un lavoro molto sicuramente al primo posto metterei il canto la musica poi lo sport in particolare il calcio sia da spettatore che da praticante e in generale comunque mi piace lo sport quindi anche tennis o paddle sicuramente non parlo del doppiaggio tra il cinema in generale mi piace e anche mangiare cioè a me piace andare in giro scoprire ristoranti oppure degustazioni varie di vini cose mi piace molto ma mangiare intendi ci sono due tipi di persone quando parliamo di cibo quelle che gli piace il piatto enorme nel cioè il cibo servito nel piatto enorme però poi la versione piccola il classico no menù degustazione a 140 euro oppure quelli che gli piace la ciccia no quindi vado da la trattoria mi faccio una cofana de carbonara grossa così oppure stai nel mezzo cioè dove ti collo no diciamo che preferisco sempre la sostanza e la ciccia nel senso se dovessi scegliere di andare a un ristorante che fa degustazione quindi magari 12 portate piccole lo so perché so che vado a fare con l'esperienza è ok però ecco se vado magari in un ristorante dove credo che si mangi normalmente poi magari vado online ritrovo i piattini così rosico per l'appunto ok ok invece sono curioso riguardo le tue fisse no perché io oppure sono una persona che ha mille fisse mille paranoie complesse ma in che ambito le hai cioè nel senso io sono molto ipocondriaco quindi le mie fisse vanno molto a variare sulla malattia cioè io non mi spaventa niente però c'ho un'unghia incarnita vado a cercare su internet oddio mi devono amputare il dito e lì c'entra quindi anche tu sei all'interno dell'ipocondria oppure le tue fisse riguardano altro no no diciamo che prettamente sono all'interno di quella sfera là perché è iniziato tutto quando l'anno scorso più o meno in questo periodo ho fatto sono andato a un concerto che mi ha regalato un mio amico diciamo ho fatto serata un po' bravo ho esagerato un po' con il vino e anche con sostanze non pesanti però insomma leggere non avevo mangiato anche quindi insomma ho esagerato la mattina dopo ne ho risentito e da lì diciamo che sono entrato un po' in questo tunnel di ipocondria importante sono stato più volte al pronto soccorso e ho fatto tutti i controlli che potevano essere fatti che da un lato è una cosa positiva soprattutto l'estate il periodo agosto è stato tremendo piano piano adesso però va meglio mi suggestiono però se sento di parlare di determinate cose per esempio a me una cosa che spaventa tantissimo è il cuore una cosa che mi spaventa proprio perché probabilmente non se ne può avere il controllo no e quindi per esempio tipo oggi io mi capita nell'ultimo periodo ogni volta che vado a fare The Good Doctor quando vado a fare The Good Doctor che è una serie medica dove risolvono sì e cose più rare e chiaramente io comincio ad avvertire dei sintomi strani cioè dico per esempio oggi stavo facendo una scena e a un certo punto hanno parlato non so di tipo di un ictus o di una cosa simile e mi so a un certo punto il braccio sentivo freddo nel braccio e tutti i brividi qua però poi insomma adesso piano adesso diciamo che queste cose le gestisco più o meno bene e quindi dopo mi è passato e la cosa che mi ha portato l'eredità che mi ha lasciato questa situazione è il reflusso questo quello ce l'ho sicuramente che insomma a forza di 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 magnam e fegato mi è venuto il reflusso quindi insomma ci sono vari espedienti pan torc e sox one e via mamma mia quanto ti capisco anche io c'ho i miei a me mi hanno dato invece come si chiama il riopanna queste cose così il malo sì più o meno quello sì quello l'antiago come si chiama quello che prendi la protezione postomaco che poi ho scoperto in realtà la protezione postomaco non è altro che un qualcosa che ti abbassa gli acidi e quindi ti fa sentire meno reflusso e quindi ti capisco ho scoperto il bianacid del bianacid che è naturale una cosa meravigliosa il bianacid non l'ho provato vedi allora vorrei rispondere l'aggiungerò vorrei rispondere un attimo a felice che scrive l'ipocondria aspetta vi dovete far sparire l'ipocondria felice sarebbe bello che uno dice grazie grazie del consiglio il problema te lo dico anche io perché io sono molto ipocondriaco ma mi è venuta molto prima di manuel e ancora cado ci sono dei periodi in cui cado in estrema depressione per la cosa mi venne quando qualche anno fa perché io giocavo a pallone e mi diedero da adolescente le sostanze strane cioè diceva nertede zio franco ma sto testa per strano non è arte però poi arrivato a 26 anni io ebbi un evento traumatico e mi fece venire dei sintomi che erano specifici di una malattia neurodegenerativa molto grave che si chiama sla che è una cosa che è terribile che io non augurerei veramente al peggior nemico e io il mio cervello era talmente tanto fissato desta cosa che si fece venire dei sintomi che erano proprio specifici della cosa e ci ho messo anni per capire che era il mio cervello a causarmeli e che non è che stavo morendo e quindi non è una cosa che tu dici è io sono felice guarda una cosa simile è capitata anche a me poi magari parliamo delle cose però insomma parlando parlando così con gli amici si parlava di insomma di una cosa brutta al cervello dai senza che di qualcosa in particolare e parlando di questa cosa dice noi sì ah no perché una persona che conosco l'aveva l'aveva avuto e io come uno stronzo scusate detto ma che cosa si è sentito questa è una domanda che un ipocondriaco non deve mai fare cosa si è sentito e insomma tra le varie cose puzza di gas allora c'è stata una mattina che io stavo al lavoro senza motivo ho iniziato a pensare sta cosa ve lo giuro io ho iniziato a sentire odore di gas perché è il cervello purtroppo è tanto figo per tante cose però per altre è una merdina insomma se non è una cosa preme cioè non è una cosa non se ne esce più se ne esce certo ognuno c'è i suoi magari fosse facile di non 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 esserlo magari e poi una volta se ne esce uscito non è detto che c'è io dico sempre che vivo in un equilibrio instabile sta cosa la può capire solo chi c'è passato perché ci sono dei momenti in cui stai bene e poi dei momenti in cui basta una minima cosa che ricadi nel baratro e poi ti riesci a risollevare ma non stai mai con la certezza ok ne sono uscito adesso sto bene cioè è sempre un vivere in equilibrio il che ormai ho imparato a conviverci però sono felice che voi non non dobbiate avere sta cosa è come quando una persona ansiosa e dice vabbè dai ma stai calmo non quello che direbbe volentieri prova a schioccare le dita magari passa così lì pochino magari sì ma tornando a bomba sul cibo sei uno che sperimenta ossia se dovessi andare in quei paesi esotici ti mangeresti scarafaggi scarbei ragni e taranto queste cose o no allora così su due piedi no però diciamo che poi magari spesso dico no a qualcosa e poi quando mi ci trovo davanti proprio sicuramente mi magari quando sto là mi incuriosirebbe mi potrebbe incuriosire la cosa però da qui a mangiarle infriabili un po sì infatti tipo il cartaccio e cavallette fritte anche se una volta il mio migliore amico mi ha fatto uno scherzo mi ha detto chiudi gli occhi e praticamente mi ha fatto da messi in bocca i berni e siccati che si mangiano i piccioni no ma è ancora andato con un altro mio caro amico ad heidelberg hanno comprato questi mi ha fatto uno scherzo ho detto ma che è sta roba e poi me l'ha confessato quindi vuol dire qualcosa ho provato ma è ancora tuo amico sì ok io non si è rotta un'amicizia per questa cosa prima il manuel considera che mauro stava per rompere un rapporto lavorativo perché gli è stata messa una tipologia di acqua piuttosto che un'altra gli hanno riempito il bicchiere ma gli hanno riempito di acqua frizzante anziché naturale è stata una carognata e a parte che mi fa passare così perché persona terribile quale non sono però sì è una carognata perché uno che non beve acqua frizzante sai benissimo che te fa schifo ti metti l'acqua tu sopra pensiero la bevi è come se stessi per morire a me succede il contrario con l'acqua naturale cioè non la riesce a bere l'acqua naturale no hai capito bisogno di bollicine nella vita sono invece una persona piatta e quindi l'acqua liscia senti prima di lasciare la parola ai miei colleghi ho un'ultima curiosità riguardo il il tuo sogno più grande ossia sei assolutamente un grande professionista un'eccellenza all'interno del mondo della recitazione del doppiaggio però ci ha parlato anche della tua passione delle tue passioni al primo posto hai messo il canto no quindi dovendo scegliere il manuel attuale ma anche il manuel bambino di sfondare fare carriera in uno di questi due ambiti continueresti la strada della recitazione del doppiaggio oppure dici no il mio sogno più grande sarebbe magari diventare una rock star una pop star quello che sia no no continuerei rifare la stessa scelta però un giorno mi piacerebbe potermi esibire di fronte insomma un bel po di gente questo sì ok però tra le due grandi passioni no il suo lavoro è comunque la preponderante sì sì ok prego andrea allora manuel io volevo chiederti se tu dovessi scegliere un unico oggetto che però sia in grado di rappresentarti quale sarebbe e perché un oggetto solo un oggetto un unico oggetto come l'unico anello infatti viene sempre in mente il signore d'anello un oggetto un oggetto un oggetto bella domanda guarda direi direi una coperta come mai tipo io una coperta perché perché alle persone le persone che amo le persone a cui voglio bene io le diciamo le proteggo nel limite insomma del mio possibile sempre nel senso che anche troppo in passato però sempre messo magari più le esigenze degli altri di fronte alle mie e come spesso accade ovviamente poi ne ho risentito in alcune circostanze però ecco io ho questo proprio istinto di di protezione verso le persone che che mi stanno più a cuore e però la coperta se te non te ci metti sotto non non ti protegge non non ti riscalda e quindi diciamo che nel corso della mia esperienza ho imparato che insomma sotto sta coperta ci possono sono solo le persone che veramente se lo meritano mentre invece quelle che non se lo meritano ormai non le faccio proprio avvicinare sono diventato un po diffidente o meglio ho imparato a a gestire quello che posso e che voglio dare alle persone molto particolare sì sì io avevo in mente un oggetto che secondo me ti 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 rappresentava per svariate sfaccettature ed era il microfono perché ovviamente a parte il lato professionale ma avendo visto anche per esempio la serata con mauro e luciano siamo stati anche alla serata dove ha suonato sia il gruppo di daniele giuliani che poi c'è stato il dj set di di stefano e vedendoti insomma poi diventare un po l'animo di una parte della serata no il microfono dava anche un po quel quel senso cioè il senso di di luce no di in un certo senso di divertimento di di animo e poi per il calcio perché da da praticante no però da spettatore il commento che uno fa può essere sempre raffigurato da dal microfono però mi ha veramente sorpreso e stupito la risposta che dato perché è molto più profonda è molto più bella è molto più bella la coperta anzi il microfono poteva essere un po scontato sotto un certo punto di vista invece la coperta è molto figo no non me l'aspettavo per poi ritorna in realtà è un bellissimo significato ritorna al discorso della lealtà no di cui ci diceva all'inizio luciano prendi esempio che tu invece a cortelli ai spalle è luciano che appena gente se gira e versi l'acqua pizzante no no c'è in chat il tizio brutto che ha scritto chissà chi è stato vero vero persona orribile comunque carola io non sono un cantante cioè man comunque anche io vorrei per manuel però ha scritto man comunque anche io vorrei diventare un cantante di diverso genere al tuo cioè io alzo le mani con sta voce non posso già tanto che faccio il presentatore mi fate pure far cantare oddio se canta laurenti potrei cantare pure io però scusate dipende come la prensa prendi a ride puoi cantare perché la principessa il ranocchio va bene luciano vai prego ridi ridi voglio vedere che domanda fai come dicevo sta rubata la chat aspetta un attimo eh sì tanto la chat ce l'ho lì io stavamo qui quindi intanto serata stupenda quella dell'immacolata e poi volevo dire appunto tornando a una delle tue passioni volevo chiederti come è nata la passione per il calcio e se hai diciamo così la da spettatori ovviamente qual è la partita che ti ricordi che forse quella in cui ti sei emozionato di più ecco beh roma barcellona 3 a 0 troppo facile mentre invece la passione per il calcio è nata perché insomma mia famiglia è tutta romanista e quindi sono nato eh con con questa cultura eh tra l'altro mio padre ha sempre giocato a pallone mio nonno anche e quindi diciamo era inevitabile poi insomma la palla più o meno è quello strumento che più o meno tutti da bambini prendiamo no per per la prima volta almeno una volta certo sì e mi è piaciuto subito infatti ho fatto anche tanti anni di calcio ho iniziato con scuola calcio con i polcini poi sono arrivato fino agli esordienti quindi diciamo ho giocato dai sei ai quindici anni più o meno e diciamo che poi a livello agonistico ho smesso però lo pratico con gli amici con i colleghi quindi mi piace ma in che ruolo giochi o giocavi io sono un bomber un bomber di razza però però all'occorrenza gioco anche esterno perché nonostante la mia altezza la mia stazza corro oppure centrocampista centrale e mi piace anche stare in porta quindi spazio un po' ah vedi quattro ruoli che non c'entrano niente uno con l'altro però però giocando con gli amici è il giocatore jolly esatto è quello dove ti sta un po' il florenzi invece a calcetto a calcetto al torneo di scuola ho giocato centrale di difesa anche vedi vedi dove ti sta no come me ho fatto un ruolo in tutta la mia vita e quello è stato cioè vedi la poliedricità ma in che categoria giocavi manuel quando hai fatto gli esordienti ti ricordi la squadra l'alderossi ho giocato sempre l'alderossi che è una squadra una delle più importanti qua del mio quartiere e anche tutti i miei compagni di scuola di classe hanno giocato tutti là ah ok ok ego vedi quanti calciatori ci sono in giro per un altro da aggiungere all'eventuale partita se non fossi giocato per il ginocchio eh anche tu hai visto quell'itali con il ginocchio no io non è vero non ho problemi al ginocchio almeno io sì oh mi sono sentito preso proprio nell'orgoglio perché io io sono uno di quelli che dice se non fosse stato il ginocchio effettivamente è così a me mi hanno operato al menisco al collaterale al crociato quando avevo 20 anni 18 anni esatto e lì è finita la carriera mamma mia che frecciata che mi ha mandato mano guarda sono veramente no perché di solito se senti no magari vedi giocato ho delle pippe di uno nonno se non fosse stato per il ginocchio esatto è vero però è vero è vero è per il mio caso e no vabbè che domanda o mi stava da fregare state a continuare a fare domande allora facciamoci un altro bel giretto di domande nostro e Luciano mi ha fregato e Luciano mi ha fregato la domanda sul calcio quindi grazie Luciano non c'era in chat per cui qualcuno devo fregare oddio oddio adesso scorriamo la chat secondo me perché magari devi capire che Luciano è quello che ruba le domande alla chat cioè lui prende una domanda dalla chat sarà la mia fede calcistica esatto e sei abituato a rubare Luciano oddio questo è da Juve è proprio lui è uno di quelli che si è fatto il tatuaggio cr7 dopo un giorno Cristiano Ronaldo ma non è vero guarda se non si è beccato un finale eh guarda se non si è beccato un finale eh eh guarda se non si è beccato un finale eh Luciano no ma noi non ci arriviamo ma pure noi non ci arriviamo vabbè ma io nel caso so dove abita Luciano quindi non è che insomma non è un problema ti sta bene Luciano il tavernello piccolo? no è acqua è vero sembra il tavernello il tavernello tascabile hai capito? vabbè mi dispiace Felice tuo padre è giuventino che brutta cosa che brutta cosa vabbè tutti hanno dei difetti comunque Manuel se dovessi pensare alla follia più grande che hai fatto nella tua vita qual è? la follia più grande la follia più grande ovviamente se la puoi raccontare sì sì allora sto pensando se dirvi quella un po' più romantica quella un po' più guarda diccele entrambe a sto punto se no ci lasci col dubbio com'era quella romantica o com'era quella vabbè allora diciamo che la mia primissima la mia primissima c'avevo 17 anni fidanzatina stavo nelle Marche un'estate io stavo in Sardegna insomma sapere poi quando sei piccoli no eh non posso vivere senza l'idea praticamente ho preso il traghetto la mattina quindi ho preso il traghetto delle otto sono arrivato a Civitavecchia alle due sì è arrivato mio nonno abbiamo corso da Civitavecchia a Castro Pretorio che più o meno sono un'ora di macchina per prendere il Pullman delle 15 che mi avrebbe portato nelle Marche nelle quali sono arrivato alle 10 tipo allora mi sa ho 17 anni è stato per me è stato il viaggio della Madonna un viaggio incredibile e un'altra foglia che ho fatto io direi quella che vi ho raccontato prima perché insomma sono arrivato sono arrivato col mio amico a Bologna a digiuno e alle 4 ci siamo fatti due bottiglie di vino poi qualche cosetta così vedete il gesto è un paio di panini no un paio di gin tonic non mancano mai quelli altre tante poi delle bimmi schioni e quindi tu dici c'hai paura di avere problemi al cuore ma se c'hai problemi al cuore a qua la serata non ci arrivavi la mattina perché effettivamente beh è dopo che parte la paura è dopo la sera altre foglie incredibili no perché io ho iniziato diciamo ad aprirmi alla vita molto tardi prima ero molto schematico molto noioso anche a volte va bene però animatore della festa sempre stato beh beh animatore guarda io ho dei ricordi molto limpidi della serata dell'immacolata infatti stavo dicendo tutti i ricordi cose della serata e non mi ricordo niente ma io ho questa cosa che ho poche immagini ma molto chiare è questa la cosa io mi ricordo che a un certo punto verso fine serata ho iniziato a girare tutto intorno per la sala ballando guardando a gente è stato molto divertente io invece non mi ricordo nulla se non due cose che Andrea mi ha detto che ho fatto due figure di merda stratosferiche una che ho chiamato una doppiatrice col nome di un'altra doppiatrice che si era appena che aveva appena salutato prima quindi ero sicuro che fosse lei e gli si somigliavano ho fatto ciao carissimo ma davvero ma in realtà io sono e mi ha detto il suo vero e mi ha detto ah cavolo che figura scusa e un altro è che sono andato per sbaglio nel bagno delle donne e esco e mi trovo di fronte in carta casa proprio una ragazza quindi credibile che stavo andando al bagno delle ragazze incredibile e dopo manco 5 minuti me la presenta Lorenzo Crisci era Veronica Benassi e io salvi io sono quello che è uscito dal bagno delle donne 3 minuti hai un libro di presentazione proprio capito che devo fare beccato un flagrante manco me potevo giustificare in qualche modo assurdo il primo impasse allora la mia follia più grande è stata mandare un video ad un gruppo di noschi figuri su twitch siamo noi effettivamente sì caro la scrive la follia più grande che ho fatto è stata quando ho chiamato una persona che non conoscevo su roblox mi ha dato il suo numero e io l'ho chiamata pensavo fosse un po' di 80 anni effettivamente anche questa ma tu sei una di quelle che trova un numero sui bagni che ne so dell'autogrill e lo chiami quello è peggio quello è su un gioco allora se diciamo sono queste le follie allora io e Alex Politori quando eravamo piccoli abbiamo chiamato delle società di doppiaggio inventandoci che eravamo una nuova società di doppiaggio abbiamo affittato delle sale la nostra società fittizia si chiamava Productor & Company me la ricordo ancora ma come ci rimanevano una volta che la sala fissata poi non veniva nessuno chiamavamo un numero privato e quindi non lo sappiamo sarebbe stato bello essere lì in quel momento cioè per una qualsiasi scusa andare lì il giorno e l'ora e vedere effettivamente come reagiva la società penso non bene comunque sia sarebbe stato super cogno come quando fai gli scherzi telefonici e vedi la reazione all'altra parte sarebbe stato la mia più grande follia continuate con le vostre grandi follie è stato scrivere un insulto pesante sul foglio della porta di una classe di fronte alla mia per insultare tutte le ragazze povere che t'hanno fatto no è bruttissima sta cosa felice viva le donne viva le donne poi se ce n'era una in particolare e te stava antipatica perché lo devi assoltare a lei esatto esatto bene Andrea sì Manuel io volevo chiederti visto che soprattutto nella storia che ci hai raccontato adesso quindi si parlava di Sardegna poi traghetti e quindi torna l'elemento dell'acqua volevo chiederti qual è il tuo rapporto con questo elemento quanto è importante per te il mare piuttosto che appunto il lago fiumi no il mare è tutto il mare è tutto d'estate d'inverno quando quando magari voglio stare un po' solo così vado al mare e mi rilassa mi calma e poi sono sempre stato al mare sin da piccolo insomma avevo in Sardegna da tanti anni quindi come se fosse una seconda casa per me e non hai mai beccato Luciano cioè che culo posso dire ma Luciano dove sei scusa di Sardegna Sassari e io vado sempre a Palau vabbè tra l'altro ieri appunto parlando di vini e tutto sono riduce da un festival di una o due giorni scoppiettante che ti sei imbriagato scusa devo assaggiare il vino eh bam ma Luciano sei uno di quelli che va qua con la conchiglietta degustazione che va là con il vino e sta assaggiando quello è lo sommelier vabbè non solo i sommelier ci vanno anche non solo i sommelier ci vanno anche chi magari ci sono questi posti degustazione c'è gente non è sommelier che va qua con la conchiglietta ma guarda ti davano proprio un kit dove c'era appunto quello che lo infili qui c'era il calice la pri bottiglie una mappa di tutte le cantine una mappa che tanto dopo il terzo o quarto assaggio non sapevi più legge quindi hai sborsato sti due trecento euro di roba no no solo d'ingresso con tutto sto kit e i vini ti avrei speso cento centocinquanta euro dai no di meno anche se era portocervo ma era di meno portocervo portocervo però era di meno ho dovuto pure chiedere scusa e ci mancherebbe si scusa dopo un insulto generalizzato tutta comunque Manuel ma non ti dà fastidio la sabbia che si appiccica crema solare tutte quelle cose no perché non vado in spiaggia perché un'altra passione che ho da quando sono piccolo è la nautica quindi ho un mio gommoncino e vado in giro con quello figo ma c'è bisogno di una patente nautica per guidare il gommone o no? fino a 40 cavalli no io ho un 40 cavalli però vado in mare da sempre quindi ho imparato a guidarlo ah ok vedi è furbo così non si toglie tutto il problema dalla sabbia ma si appiccica esatto stai sul gommone poi ti butti in acqua ma si leva pure delle rotture delle scatole senza la gente esatto senza le persone che poi sono odiosissime ma infatti da quando c'è stata comunque la pandemia molti hanno scelto di noleggiare tipo barche gommoni perché almeno non cioè stavi con quelli che volevi lontano da tutto e belli che se ne andavano insomma il mercato delle barche dei gommoni eh o sa bene Luciano perché ha fatto sto commento va bene Lucio prego allora mi importa chiedere a Luciano di fare una domanda vuoi dire allora allora mi sembra si sistema 25 preparazione vede se può rubare qualche domanda esatto dai Lucio rubare il DNA e fino alla fine il DNA rubare la tua seconda domanda vai eh certo perché una rubata te l'altra rubata Andrea esatto vai solitamente è la sua questa quindi la uso non cincischi vada avanti Lucio allora penso che tu conosca comunque la mi auguro o abbia visto i film di Harry Potter beh cazzarola certo non lo so perché c'è gente che non li vede anche per così per principio io li ho visti i film Harry Potter se ti rivolgi a me Luciano ce l'hai con me che vuoi ce l'hai con me non lasciarti vagare Mauro va bene vai fa sta domanda Luciano come nel nel terzo film ecco dovendo sconfiggere un disennatore quale sarebbe il tuo pensiero felice per far apparire il tuo patronus mi sembra una domanda già sentita allora il mio ricordo felice per far apparire un patronus io farò questo il concerto che ho visto quest'estate dei Coldplay a Glasgow oh capi di Coldplay bello quindi quello è il tuo pensiero ma la canzone preferita dei Coldplay è una bella è un po' è un po' di nicchia nel senso che non la conosco in tanti il titolo è ho come ho ah ho e la so anche suonare al pianoforte tra l'altro è solo pianoforte e voce e la sento quando so felice quando so triste mi piace molto vedi non la infatti io non la conoscevo si chiama proprio sentila la sentirò a me piace moltissimo The Scientist invece la trovo molto molto bella molto profonda emozionante tra l'altro ha detto riuscire ad andare al concerto dei Coldplay i biglietti per soprattutto gli ultimi concerti dei Coldplay sono tipo esauriti prima ancora che venga annunciata la tappa un altro po' quindi è stato veramente non ho preso non ho preso il turno la mattina e mi sono collegato da alla NASA l'ho preso con 18 bot però ha funzionato che glielo vuoi dire no no infatti ha funzionato benissimo questa cosa il mio pensiero felice sarebbe la mia prima partita Dungeons & Dragons raga io lo sapete che lo trovo noiosissimo però il problema so io a quanto pare perché a tutto il mondo piace io non l'ho mai giocato ma anche io però io non lo so lo trovo molto lento no poi sarò io che non ho immaginazione ma è neresia lo so felice lo so vabbè ma ci sta i giochi di ruolo non piacciono a tutti ma così come ogni tipo di videogioco c'è gente a cui non piace Metal Slug c'è gente per cui Metal Slug è dio cioè nel senso è questione di gusti sostanzialmente ci sta vero Manuel qual è il tuo rapporto con i fumetti cioè non solo i fumetti americani mi riferisco proprio a qualsiasi tipo di fumetto possa essere Paperi Topolino oppure il D-Landog italiano ne leggevo tantissimi da piccolo soprattutto di Topolino per rispondere alla tua domanda ti faccio vedere una cosa mi sono appena trasferito in questa casa ieri ho fatto acquisti aspetto un attimo bene a me piacciono ste cose che bello poi che bello che bello che bello che bello Spider-Man fighissimo sai io ne ho ordinato ho ordinato un dipinto di Spider-Man di quelli che sono fatti con quel materiale che si illumina poi al buio cioè che da la luce lo vedi con il colore naturale al buio lo vedi con i colori in contrasto sostanzialmente bellissima sta cosa l'ho commissionata l'altro giorno e non vedo l'ora che arrivi figo quindi insomma ne leggevi tanti no? sì di Spider-Man soprattutto ok piace molto è fatto che lo doppia Poltoni vabbè tu doppiata ma quindi insomma hai doppiato un personaggio adesso che posso dire una cosa cioè nel senso a me Guardia della Galassia volume 3 è piaciuto da morire se devo trovare un Neo potrebbe essere un Adam Warlock completamente diverso da quello a cui siamo abituati però hanno fatto la stessa cosa con Drax ed ha funzionato adesso con Adam Warlock vedremo però cavolo cioè non so se hai letto dei fumetti relativi ad Adam Warlock ma un ruolo principalissimo all'interno di tutti gli avvenimenti Marvel non li ho mai letti però magari magari è un personaggio che sviluppano in seguito cavolo sì secondo me non lo so secondo me sì perché ha delle prospettive incredibili come personaggio sì poi è ancora un bambino sì se consideri il fatto che insomma Gunn non è stato uno sprovveduto nel senso che non è che ha buttato lì un personaggio OP lasciandolo OP ti ha detto no vabbè per adesso non è quel personaggio che va aspettato è perché ha bisogno di fare un percorso quindi speriamo insomma che Adam possa fare quel percorso sia per Manuel che per il personaggio di Adam stesso insomma cavolo sì però a te non ha scusate l'off topic a te non ha lasciato un po' strano vede a Nathan Warlock del genere cioè non è mai stato così nei fumetti eh cioè l'abbiamo sempre quando usciva prima dal bozzolo quando usciva prima dal bozzolo era depotenziato ma non era scemo cioè scusate Sì sono d'accordo però diciamo che il suo modo il modo che ci ha avuto Gunn di trattare l'argomento e di adattare a un qualcosa che non proseguirà lui è stato secondo me anche una forma di rispetto per chi verrà dopo ha lasciato un personaggio fichissimo con tantissimo potenziale e lui ha utilizzato veramente una briciola di quello che è quel personaggio e ha detto ok questo è tutto campo da coltivare vi do il personaggio vi do la scusante per cui deve ancora fare il percorso di crescita deve ancora diventare quel personaggio mostruoso che conoscete nei fumetti fatelo e fatelo bene quindi secondo me va bene così cioè mi è piaciuto pure quello ma a me dispiace proprio che James Gunn sia andato via vabbè ma che gli ridi a James Gunn è passato alla parte migliore no va va lusso allora che figo quello l'hai preso per me vero? sì palesemente sì sì allora Andrea domanda ai social partner e poi apriamo la chat che ci sono veramente un botto di domande ovviamente sapete le solite cose non le leggerò tutte quindi non mi rompete le scatole in privato dicendo non hai letto la mia domanda sono un botto quindi pesco a caso cercherò comunque di leggervene cosa che non ci riuscirò mai di differenziarle ossia non leggere due domande della stessa persona così che più persone abbiano la possibilità di fare la propria domanda a Manuel Andrea domanda ai social partner vedi che mi sono ricordata solo stavolta mamma mia veramente questa sera una serie di sorprese sono un fire Manuel Roberto Doppiettori ti chiede se dovessi ricominciare da capo la tua carriera rifaresti tutto come hai già fatto o cambieresti qualcosa? no no rifarei tutto perché perché credo ne sia ne sia valsa la pena ho sempre fatto tutto con con piacere anche grazie a mio padre che è quello che mi ha gestito diciamo di più e quindi no credo che rifarei tutto uguale ok ok bene è la risposta la nostra risposta preferita in realtà si man qual è il tuo film preferito della Marvel? scusate questa mi sta facendo il caro la mi sta facendo una domanda specifica e devo rispondere i guardiani della galassia l'intera trilogia la considero una piccola perla all'interno della Marvel perché la Marvel soprattutto ultimamente sta sfornando dei prodotti molto molto brutti molto brutti e invece i guardiani della galassia erano dei personaggi che forse conoscevo io e altre quattro persone prima dei film di James Gunn e ho lì tutta la ranna a fumetti completa dal prima apparizione di Star Lord nel 70 fino a quindi ho letto tutto e ti devo dire che mi è piaciuta tantissimo come James Gunn ha gestito tutto non li ha snaturati come hanno fatto con tutti i personaggi Marvel e gli ha dato dell'intensità molto forte cosa che è venuta un po' meno col personaggio di Drax ma perché ci sta che non sia il Drax dei fumetti però hai visto in questo terzo capitolo come cerca un po' di rilivellare cioè cerca di riportare un po' Drax da è sempre la linea però lo riporta anche un po' al senso no? con cui è partito della famiglia delle cose è diventato tipo Vin Diesel però ci sta per me è tipo Vin Diesel a me è piaciuto molto la trilogia dei Guardiani la metto al primo posto poi subito dopo Infinity War che hanno hanno rovinato tutto con Endgame però se tu prendi Infinity War da solo è molto molto bello andiamo con la prima domanda aspetta abbiamo il jingle il jingle che fai non lo metti le domande della chat le domande della chat eh figo Emanuel stupendo che fai ti piace? ti è piaciuto il jingle Emanuel? bellissimo oh vedi beccandere prima domanda fatta quando ancora non eravamo in live da Tommy buonasera al man Fallon al Blast YTT di Erna e al cinepanettone Luciano cinepanettone Luciano è bellissimo e al grande ti vorrei chiedere come è stato doppiare Pen Zero e Fineas quindi sono due domande in una però le abboniamo allora Pen Zero è stato molto divertente perché era una serie molto brillante di Disney Disney Channel c'era ancora mi sa e Pen Zero era avventuriero praticamente lui era questo ragazzo che come antagonisti se non ricordo male aveva sicuramente questo scienziato pazzo e viaggiava nel tempo per affrontare appunto questo scienziato che andava in giro a fa casini si chiamava Pen Zero l'eroe avventuriero ed era veramente molto divertente e Fineas è un pezzo di vita un pezzo di cuore diciamo che è la prima serie dove ho cantato tantissimo e poi insomma un bellissimo ricordo di Danilo De Girolamo che l'ha diretta per primo poi è subentrato Leslie La Penna e sull'ultimo film di Fineas e Ferb quello che è uscito nel 2019 ho ricantato insomma è stata tosta perché Fineas rimane sempre uguale io invece cresco e con me la mia voce quindi è stato è stato abbastanza tosto e poi c'è un aneddoto divertente un'altra serie di Disney Channel che ho fatto che si chiamava La Legge di Milo Murphy c'è un crossover con Fineas e Ferb e io ho voluto a tutti i costi provare a fare Fineas è andata bene e quindi ci sono diverse scene dove mi parlo da solo con la voce di Fineas e poi con la voce di quello che facevo su quell'altra serie ma cantavi anche la sigla di Fineas e Ferb no la sigla la cantava c'era questa voce solista un po' più grande quindi no però insomma Gici Gici Gu quello là ma Ah ok ok quindi le canse all'interno della puntata sì ok ok infatti dicevo però non mi sembrava la voce tua nella sigla allora buonasera a me Andrea Luciano buonasera a Manuel grazie per essere qui con noi stasera vorrei chiederti se puoi parlarci della tua esperienza di doppiaggio in Shameless dove ho dato la voce a Ian Gallagher Shameless è una ficata una serie assolutamente irriverente fuori da qualsiasi schema ed è stato bello perché no di solito soprattutto ultimamente tante cose non si possono dire per il politicamente corretto per insomma per tante cose ma era impossibile essere politicamente corretti nel parlato quando poi si vedeva quello che si vedeva nella serie è stato è stato bello ho scoperto quest'attore Cameron Monan che è fortissimo e e quindi mi sono veramente divertito poi era un bella un bel contesto un bel ambiente lavorativo figa 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 lui l'hai l'hai anche doppiato nel videogioco sì volevo aspettare per parlarne però va bene Luciano infatti sono andato a cercare adesso Star Wars il videogioco per vedere se l'avessi doppiato anche lì Luciano Luciano l'ho doppiato Jerry Fallen Order e anche il secondo che non mi ricordo come si chiama sì ecco quella è stata un'esperienza incredibile perché è stato il primo videogioco che ho doppiato per insomma per console playstation xbox è stato fighissimo è un modo di lavorare completamente diverso rispetto al doppiaggio di insomma classico però poi quando lo senti è figo e ho doppiato anche un boss in God of War Ragnarok ah vedi non ti ho ancora incontrato allora sicuro è forse lui ti ho ancora incontrato I'm done sì l'hai cercato su google Luciano che cosa vedi che mi hai incontrato eh sì I'm done c'è rimasto male Andrea c'è rimasto male no ma non l'ho riconosciuto vuol dire che ho fatto bene se non m'ha riconosciuto dai niente ormai abbiamo perso Andrea io intanto che Andrea si uccide da solo vado avanti con le domande buonasera il grande mister Lannister buonasera grandissimo ragazzi è il nostro un mio parente è un mio parente ha fatto due domande una su Game of Thrones e una su Animali Fantastici ovviamente porrò quella su Animali Fantastici perché no dai allora mister Lannister scegli tu pongo quella su The Game of Thrones oppure quella su Animali Fantastici ti do 10 secondi di tempo perché noi siamo indifferita di circa 10-15 secondi dalla live effettiva da quando vi arriva quindi ti do 10-15 secondi di tempo per decidere e nel frattempo Animali of Thrones Animali of Thrones no mi dispiace allora scelgo i Animali Fantastici dai Manuel cosa preferisci tra Animali Fantastici o Credence 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 dai mi dispiace si chiama Mr. Lannister dai va bene se puoi parlarci del doppiato di Game of Thrones dove hai dato la voce al personaggio di Geoffrey simpaticissimo allora chiaramente quando l'ho doppiato la prima serie quando è uscita 2000 forse 11 sì forse 2011 quindi 12 anni fa io avevo 15 anni quindi insomma non conoscevo neanche i libri e man mano che andavo avanti sono rimasto scandalizzato dal comportamento di sto personaggio che è che è satico a dir poco e sicuramente mi sono divertito no perché come Engala anche quando doppi cattivi è più divertente però sono stato contento pure quando è morto pensate che una volta sono andato sono andato ospite a un evento in Piemonte che era a tema Signore degli Anelli e quindi insomma anche Game of Thrones e c'è stata la presentazione di Rito ci hanno presentato a tutti quello che avevamo fatto quando arriva il mio turno fa mano al media ha fatto questo questo e questo e ha doppiato anche Geoffrey e dal pubblico mi hanno urlato a merda no si piastra c'è un po' no lo so un po' un po' la merda eh un po' sì dai però però vedi infatti viene a merda l'hanno urlato a me o al personaggio hai capito un po' quello che diceva Carlo De Ruggeri ovviamente Lorenzo lo schiavo in Boris lui l'attore Jack Gleason non recita più perché perché per strada lo insultavano pesantemente lo minacciavano mamma mia però ha abbandonato la carriera che cosa brutta quando non si riesce a scindere la recitazione dalla persona reale cioè è una cosa veramente brutta perché poi uno magari fa un ruolo della madonna è un bravissimo attore e si becca gli insulti poraccio per il suo personaggio pure Gianmarco Tognazzi che ha fatto Spalletti veramente veramente va bene rigami all'alba ciao a tutti tanti tanti complimenti a Manuel al quale vorrei chiedere se può raccontarci qualcosa di due prodotti Zack e Cody dove ha dato la voce a Cody Martin mamma mia me lo ricordo e Riverdale dove ha dato la voce ad Arce sì allora Zack e Cody è un altro pezzo importante della mia vita condividevo la sala prima con Jacopo Castagna e poi con Mattia Nissolino che ha doppiato Zack sul ponte di comando e le serie le ho fatte tutte con Claudia Razzi che è stata strepitosa insomma mi hanno fatto crescere tanto anche perché c'è stato un periodo mentre facevo quella serie che era un po' un po' moscetto insomma non non mandava tanto poi ci sono insomma dei periodi un po' così come no e quindi è una serie che mi è rimasta impressa e che ricorderò sempre con con tanto affetto e Riverdale era partita bene la prima stagione era molto carina quasi un giallo leggero e poi come si diceva ma hanno spacciolato malamente e va sempre peggio poi lo assicuro e la sua espressione dice tu guarda dice tu si si non sei l'unico che ci ha detto questa cosa devo essere ho capito ma scusa no ma io adesso parlo di A ci sta Arci che fa prima fa lo studente poi fa il supereroe poi c'è i superpoteri poi fa poi fa il soldato poi fa il professore poi fa il pompiere è tipo Mersin è tipo Favino fa tutto lui esatto è il Favino di Riverdale tutti non vedono l'ora che troppo trash troppo trash è vero è vero propongono un'altra frase storica Riverdale era partita bene poi come si dice hanno spacciolato male eh sì bello bello allora andiamo avanti Manuel può è triste parlarci della tua esperienza in sex education dove hai doppiato Adam Groff che anche lì a proposito di personaggio odiosi almeno inizialmente sì è un personaggio molto divertente molto però che è quello diciamo no che tra insieme ad altri però secondo me è quello che ha avuto più sviluppo no e molto positivo devo dire alla fine alla fine mi piace inizialmente anche lui era un po' scrozzetto un po' bulletto ma perché nascondeva poi quella che era la sua la sua vera natura e credo sia abbiano finito di girare la quarta stagione e quindi magari a breve entreremo in sala non lo so ok bella come a me è piaciuta abbastanza come serie cioè è una di quelle che ho visto il primo episodio e non ho detto ok non la guardo più sono andata avanti e effettivamente è stata interessante allora di Adam Warlock abbiamo già parlato però se vuoi aggiungere altro sei insomma liberissimo di farlo no vi ho detto sono stato molto contento perché l'ultimo film Marvel che avevo doppiato è stato X-Men Apocalypse e X-Men Apocalypse e un altro pure l'ho doppiato sì forse la la Fenice quello dopo eh bravo sì bravo e e poi sono contento perché comunque Will Poulter è un attore che seguo seguo spesso quindi mi ha fatto molto piacere sperando che che continui insomma perché in pochi mesi ho fatto due titoli abbastanza grossi ma il primo purtroppo è morto quindi non so se vabbè io penso che ormai l'abbiano visto tutti ma sì dai dire sì credo di sì dai Avatar eh sì beh speriamo bene ma a propria se Will Poulter a me mi ha fatto morire su un film specifico è come dispaccio la famiglia cioè per me Will Poulter rimarrà lì cioè potrà fare qualsiasi altro film ma quel film sta proprio nell'Olimpo ci sta ci sta la scena quando il ragno gli morde i testicoli che è bellissimo e il pezzo pure dove a voi vi pagava oppure c'è un altro pezzo che mi fa morire che è quello lì dove c'è Jason Sudeikis sembra che fanno la tattica allora tu va lì tutto serio eh e poi va lì quella è la strategia ok va là gli fai sta cosa e poi ritorni indietro non so se vuoi ricordare cioè un po' troppo scurrile da dire qua davanti a tutti ci sono insomma anche ragazzi però quel film raga per chi non l'ha visto recuperatelo guarda c'è un altro ruolo che ho letto adesso che fortunatamente anche la chat l'ha scritto che io a parte ho adorato la serie perché secondo me è carina è fatta bene non sono un fan dei duemila cambi nel tempo però ci stava che è in Dopsic ed è veramente una serie devastante cioè è bellissima e anche lì secondo me ha fatto un lavoro strepitoso e lui è molto bravo lui secondo me è un attore veramente molto bravo e che in un certo senso stanno scoprendo piano piano perché gli stanno facendo fare delle parti sia comiche ovviamente che invece un po' più impegnative secondo me non ha ancora l'animo da cattivo vero e proprio cioè cattivo nudo e crudo però può arrivarci e devo dire che nei vari prodotti in cui l'ho visto e poi ho sentito la tua voce l'hai reso veramente veramente bene quindi complimenti no no sulla reso veramente bene devo dire devo dire come dicevi tu ma un po' cioè non è che mi ha deluso però vedendo l'attesa che c'era su sto personaggio no di Warlock pensavo di far uno ripeto non conoscendo bene la saga non dico cattivo però uno bello cazzuto e invece hai visto no farci bene poi da quando da dopo la ferita che viene curato diventa una sorta di infatti lì poi è un peccato perché quello che dice Andrea dice oddio io Will Powder l'ho sempre visto in ruoli molto e questo di Warlock un po' lo riprendi il ruolo del del bambacione no ed era quello è la mia preoccupazione di quando ho visto la sua scelta per Warlock poi non avendo visto altri prodotti non metto in dubbio che l'attore sappia però per esempio in Doopsic parte da da personaggio positivo poi diventa cinico perché capisce come funziona lo schema della società e quindi diventa cinico diventa quello che la società richiede per scalare e a un certo punto ha la redenzione quindi da cinico torna comunque ad essere un personaggio tendenzialmente buono non totalmente buono ma tendenzialmente buono questa cosa secondo me è fighissima ma farlo in prima battuta su un personaggio come Warlock sarebbe stato troppo rischioso confido nel fatto che comunque abbia un'evoluzione nel suo personaggio e arrivi ad essere l'evoluzione non sarà gestita da Gun e quindi è comunque un problema perché c'hai una doppia e poi io capisco Manuel perché comunque il personaggio di Warlock è un personaggio veramente di un'integrità ma anche di una complessità perché c'ha i magus da una parte che è il cattivo per eccellenza e poi c'è Warlock che è comunque una persona non come l'avete vista nel film c'è una persona veramente cazzutissima uno che cioè che c'ha sulla fronte la gemma della dell'anima no? infatti poi nel film si è capito che è quella cosa a fronte sarà la gemma dell'anima no? a questo punto no non può essere quindi non lo so l'hanno stravolto parecchio e capisco Manuel che si aspettava un altro personaggio perché effettivamente Warlock non è quello che avete visto arriverà arriverà Kang Dynasty arriverà sei convinto insomma arriverà quanti anni sono? fino adesso siamo stati in una sentenza Mauro tutto quello che abbiamo detto che non dovevano fare hanno fatto l'hanno fatto fatti speriamo speriamo dai così io sono contento di vedere Uber Warlock e Manuel ha veramente il giusto riconoscimento era un personaggio bellissimo tra tutti i personaggi a cui hai dato la voce quale o quali senti più simili a te ma a livello caratteriale c'è qualcuno in cui ti sei rivisto in alcune parti del carattere se dici willpowder in come ti spaccio la famiglia muoio allora se ripensa a tutti vabbè diciamo Aladdin che canta pure ok Aladdin anche perché canta giustamente pure perché ruba scherzi ci dissociamo ovviamente noi non sappiamo se effettivamente Manuel rubi o meno ma era una battuta signori di Twitch il diamante allo stato grezzo allo stato grezzo Manuel puoi raccontarci qualcosa sul lavoro che hai fatto nel Signore degli Anelli e negli Anelli del Potere dove hai dato la voce a Elrond sì bellissimo bellissimo lavoro ho avuto l'opportunità di rilavorare dopo tanto tempo con Francesco Vairano che è insomma un grandissimo doppiatore direttore adattatore per chi non lo sapesse tra i tanti due nomi così a voce di Piton e di Smigol è proprio un'altra impostazione mi ha insegnato mi ha insegnato tanto cioè la cosa bella di questo lavoro è che anche se lo fai da tanti anni nel mio caso 21 c'è sempre tanto da da imparare e devo dire che lui mi ha veramente dato qualcosa in più lo sentivo lì in sala e l'ho sentito pure dopo quando mi sono riascoltato quindi è bellissimo anche lì si prevedono tante stagioni speriamo bene speriamo anche perché lì sappiamo che è un personaggio che non può morire quindi nel senso guardate un mio amico un mio amico collega fonico mi ha mandato manca a farla apposta senza sapere niente guardate che sta giocando Adam Warlock insomma qui è bello cattivello ma non sembra Will Polter no no io pure qua di Warlock c'ho mille cose dell'action figure al fumetto no vedrà vedrà io sono sicuro che arriverà Andrea ha detto che arriverà quindi non arriverà mi dispiace arriverà arriverà ok abbiamo perso Luciano che è andato a fare un bagno a Sassari che fine ha fatto Luciano Luciano gli hanno levato 15 punti che è successo pensava Mattieri è andato a fare un bagnetto a Sassari c'è il mare a Sassari c'è il bagnetto eh niente eh c'ha avuto 3-4 prenotazioni degli hot insieme gli è cresciato e il Dorin aveva chiesto proprio di Heimdall la vedi quindi infatti l'ho letto prima infatti l'ho letto prima esatto la voce a quello stronzo di Heimdall la scrive non è simpaticissimo come personaggio effettivamente Will lo scrive ciao man Andrea Luciano un particolare saluto al nostro ospite vorrei chiedere a Manuel visto che ha interpretato tantissimi personaggi in film e serie di eroi anche super qual è la tua idea di eroismo nella vita reale grazie di essere tornato qui con noi stasera la mia idea di eroismo esatto allora è una cosa che ripeto ma perché per me è molto importante la lealtà in generale verso tutti insomma verso le persone anche quelle che conosciamo un po' meno l'onestà e e anche la capacità di saper aiutare che è in difficoltà ma non solo diciamo come di supereroi fisica però insomma un amico in difficoltà una persona che magari soffre anche solo ascoltare ok mi sembra una bellissima idea di eroismo Manuel puoi parlarci di di Sean Murphy in The Good Doctor mamma mia penso che sia stato complessissimo molto difficile no entrare in quel personaggio allora lì lì prima di essere affezionato al personaggio io sono affezionatissimo all'attore Freddy Eichmor che seguo praticamente da sempre da da quando l'ho doppiato in nella musica nella musica del cuore e e poi diciamo l'ho ripreso su Arthur il popolo dei mini mei 2 e da lì non l'ho più lasciato è un attore straordinario in particolare in questo personaggio è stato eccezionale davvero davvero bello difficile doppiarlo perché perché comunque sia quando si doppiano personaggi di questo tipo è molto sarebbe potrebbe essere molto semplice ricadere nella macchietta allo stesso tempo però è stato facile perché lui è talmente bravo che praticamente faccio faccio quello che fa lui seguo le sue note chiaramente quando è quando è possibile farlo nella nella nostra lingua nella musicalità della nostra lingua però lo seguo ed è veramente ed è veramente bravo poi soprattutto nelle ultime nell'ultima stagione anche ha dei picchi a volte di crisi sono le scene dove dove mi diverto anche di più e e poi una menzione particolare per lui anche in Bates Motel che non so se avete visto se non l'avete fatto ve lo consiglio che sarebbe la insomma la trasposizione di Psycho di Hitchcock ai giorni nostri e è veramente figo doppiarlo ok infatti ti fanno un sacco di complimenti anche dalla chat giusto per leggerne qualcuno Andrea scrive Andrea crea 25 caro Manuel veramente complimenti per Sean Murphy hai veramente reso benissimo un autistico ad alto funzionamento la mia ragazza ci lavora con gli autistici e dice che lo hai reso veramente veramente bene oppure Mati 22495 scrivi ogni volta vedo Good Doctor mi commuove sempre effettivamente hai fatto secondo me un lavoro pazzesco cioè veramente pazzesco immagino anche la difficoltà poi nel farlo anche insomma immagino e ti muovi sempre in un campo minato poi quando fai un prodotto del genere quindi anche a livello di responsabilità di pressione non deve essere stato facile almeno all'inizio immagino eh sì tutto detto si richiede si può richiedere nella macchietta poi anche trovare un po' una una vocalità diversa eh non non troppo matura ma neanche troppo troppo infantile insomma è è un equilibrio è un equilibrio tra tra la vocalità e e il pensiero perché comunque lui il personaggio come pensiero è molto maturo nel senso è quello però chiaramente ha delle delle sfaccettature date dalla sua condizione che che vanno vanno rispettate senza appunto rovinare o o sminuire quindi è stato un bel lavoro ok c'è anche una dichiarazione d'amore qua di Esther 93 bravo Manuel bravo bravo e soprattutto bellissimo col cuoricino grazie Esther attenzione qua potrei trasformarmi in Alberto Castagna di colpo o Maria De Filippi o Maria De Filippi e beh biondo sono biondo tinto come lei quindi insomma alla fine si può fare qua parte il la richiesta del parte la ship esatto Davide Davide Avengers ti chiede domanda per Manuel preferisci doppiare i buoni o i cattivi i cattivi i cattivi tra l'altro non lo sanno in molti però io sull'ultimo Batman Joker ho doppiato quello che dovrebbe essere Joker ma io non ancora devo vedere l'ultimo Batman me lo consigliate sì guardalo ok da vedere da vedere va bene va bene gli darò una chance qualora dovessero insomma proseguire in maniera attiva su quella linea quello dovrebbe diventare il Joker quindi insomma magari faranno musicals Batman 2 frecciatina Joker 2 speriamo speriamo perché insomma io non mi lamento insomma della mia carriera delle cose che ho fatto però ultimamente mi stanno a capire queste cose fai queste cose sono enormi poi Nedeian schiattata Warlock è un coglione questo non si sa che fa ma speriamo bene dai speriamo speriamo felice hai mai letto i manga di qualche anime che hai doppiato no di qualche anime che ho doppiato no da piccolo leggevo tanto Dragon Ball beh Dragon Ball come d'articolo non è mai incrementabile assolutamente oltre a vederlo lo leggevo anche Luca Cola 02 buonasera man sera boys sera Manuel complimenti per la tua carriera avrei tre domande veloci su tre personaggi allora dei tre personaggi mi sa che ne abbiamo parlato tutti e tre però adesso ti va del Elrond e quindi se già conoscevi l'universo di Tolkien e se c'era qualcuno nella saga che ti sarebbe piaciuto doppiare il secondo l'abbiamo appena accennato che era quello di Avatar 3 lui ha scritto Locke però poi mi ha scritto dopo in chat mi sono sbagliato non era Locke andavo di corsa quindi il nome Nethayan esatto Nethayan e il terzo invece ma non meno importante il Joker di Batman vero che è difficile parlarne ma sappi che ti aspetto perché secondo me potresti essere devastante su quel personaggio quindi sì li abbiamo bene o male trattati tutti e tre quindi c'è qualcuno nella saga forse non abbiamo risposto a questo se c'era qualcuno nella saga che ti sarebbe piaciuto doppiare che immagino oltre il Signore degli Anelli esatto immagino oltre il tuo personaggio allora se intende della serie ho visto talmente poco in questi grandi prodotti non si vede niente si vedono solo dei cerchi dentro le facce che quindi non so rispondere in modo preciso se parliamo del film mi sarebbe piaciuto doppiare Sméagol oh beh ti è prestato sicuramente una bella prova bella prova non semplice io mi ricordo quando abbiamo fatto il talks dal vivo con Bayrano che ha fatto quei due tre minuti di Sméagol e mi ricordo che era affaticato provato parecchio provato dopo quei due tre minuti di di Sméagol quindi immagino insomma quanto possa essere duro poi per per la voce per il fisico poi doppiare un personaggio ma tu guarda guarda Andy Serkins che lo fa in originale gliel'hanno chiesto di recente no di recente gliel'hanno chiesto in un'intervista che sta rigirando di recente in uno di questi late show e lui stava bevendo ha bevuto dell'acqua solamente per risputarla cioè per farla ricadere dalla bocca e avere la sonorità giusta secondo lui per dire le battute come come avrebbe detto Sméagol c'è sta beh è comunque molto impegnativo anche lato originale quindi suppongo che a maggior ragione lo sia nel doppiaggio e magari comunque potresti doppiare Gollum nel videogioco che uscirà non mi ricordo se quest'anno l'anno prossimo sempre che non sia stato già doppiato ma uscirà un video ripetizione se non lo doppia Manuel Luciano si incatena nudo davanti allo studio sono d'accordo della lavorazione lo stai diciamo dillo qui davanti a tutte le persone che ci stanno seguendo e Manuel cioè se Manuel non lo doppierà tu ti incatenerai nudo davanti allo studio ah no Manuel non ti vuole bene mazza però non lo farei perché ti ho chiesto niente che cosa brutta Luciano ci fa fare sempre brutta figura con i nostri ti fa guardare dietro Luciano un altro personaggio che mi sono molto divertito a fare perché fondamentalmente è una donna si veste da donna si comporta da donna e tra l'altro lui l'avevo doppiato in un'altra cosa di recente se mi potete aiutare sicuramente voi prima di The Sandman e mi sono molto divertito perché lì fa il cattivo però non cattivo esagerato magari come Geoffrey ma proprio suddolo sua dente quindi quindi mi sono molto divertito bel personaggio spero che torni presto alla seconda stagione anche perché in generale proprio la serie è molto bella e ben fatta e ne hanno parlato tutti benissimo di The Sandman quindi ha avuto anche un ottimo riscontro dalla critica origami all'alba Manuel puoi raccontarci la tua esperienza in Godfather of Harlem dove hai dato la voce a Teddy a Godfather of Harlem mazza bella domanda bellissima serie bellissima serie anche una bella storia quella che riguardava il mio personaggio con questo ragazzo spero di non dire subitaggini di ricordarmi bene comunque questo ragazzo nero che frequentava era fidanzato amava questa questa ragazza che era la figlia di un boss di insomma della mafia di Harlem e un personaggio molto intenso e che adesso che me l'avete ricordato ricordo molto piacere quindi grazie perché l'avevo rimosso sinceramente comunque sono veramente forti in chat cioè ci hanno mazza ricordano un sacco di cose puoi parlarci dell'esperienza di doppiaggio in The Flash The Flash dove hai doppiato Kid Flash Wally West no? giusto? sì ah nella serie nella serie che era quella con Greg Gaston CW ok sì 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 ah l'avevo doppiato in Cowboy Bebop sì Cowboy Bebop dunque The Flash allora sinceramente è un personaggio che non non mi è mai rimasto troppo impresso Kid Flash sicuramente un po' perché non ho mai letto i fumetti di Barry Allen non c'è stato quel feeling e poi diciamo un personaggio sempre molto molto insicuro che sta appresso comunque a questa cosa di voler essere anche lui come Flash quindi non è uno che ricordo ecco con particolare affetto e invece ti chiedono se ricordi con particolare affetto Pita della saga di Anger Sì sì all'inizio io non ho letto i libri di nulla di nessuna cosa che ho fatto che era tratta da libri però mi è piaciuto tantissimo era tra l'altro uno diciamo dei primi ruoli un po' più impegnativi che ho fatto beh no forse il primo ruolo impegnativo che ho fatto è stato un esame infinito però è stato è stato bello anche lì mi è piaciuto molto il percorso che ha fatto che ha fatto Pita nei film mi è piaciuto molto soprattutto il primo Hunger Games era veramente figo poi la lavorazione che ricordo con molto affetto perché lavoravamo insieme insomma sono stato in sala con Stefano Benassi con Roberto Pedicini Francesca Guadagno Gioi Saltarelli quindi insomma direzione di Alessandro Rossi ha un bel periodo sì che poi in contrapposizione a quello che abbiamo detto prima Pita era un personaggio veramente amato da tutti quindi sì a differenza di quello di Game of Thrones magari ti urla ma se merda qua invece proprio per il fatto che eri la voce di Pita immagino che avrei ricevuto un botto di sì lì mi amavano di amore un botto di richieste di audio pure quelle quelle sono sempre tante all'ordine del giorno immaginiamo perché mi volete così male a mettere sti nomi io non li conosco ho una curiosità da chiedere a Manuel siccome per me Hero Fienz Tiffin l'ho detto bene ecco a proposito di audio sì non è espressivo per niente volevo chiederti se hai avuto difficoltà nel doppiarlo nella saga di After innanzitutto grazie per questa domanda perché anche io lo trovo assolutamente inespressivo ed è molto difficile doppiarla è più difficile doppiare un attore come si dice in gergo cane che uno bravo poi After è un film molto molto parlato e sì è difficile è uno di quei casi dove al doppiaggio bisogna dare un po' di più perché se se fai quello che fa l'attore viene una cosa moscia moscia sì è un film che ha l'apparenza semplice ma da doppiare è difficilissimo anche lì un altro prodotto su cui poi hanno macinato libri su libri before after due milioni de cose insomma è un prodotto che va abbastanza però si condivido la perplessità mettiamola così sulle doddi attoriali stanno a scrivere hai visto in chat e stanno a scrivere sull'attore cani tutti abbiamo pensato a Corinna after is the new occhi del cuore bellissimo esatto è stato gioielliere è stato gioielliere mamma mia ti piacerebbe doppiare un signore del tempo se sì come vorresti lo stile d'outfit ovviamente questa domanda presuppone che tu conosca molto bene Doctor Who potresti anche non essere fan o non fregartene quindi se puoi rispondere bene se no amen non conosco no ok quindi abbiamo va bene però ti piacerebbe doppiare il protagonista che è uno dei dottori di Doctor Who in sostanza è questa sì non lo conosco particolarmente però la storia è molto figa quindi sì ok questa ok questa l'avevo ne abbiamo già parlato raga io vado avanti su quello che non abbiamo trattato domanda per Manuel qual è il live action preferito? della Disney? sì della Disney è difficile qua c'è un po' un conflitto di interessi no 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 io li ho visti tutti in live action quindi non voglio sembrare parte no dai sembro di parte la bella e la bestia con Emma Watson ok e se non fossi sembrato di parte sai che sai che probabilmente però il tuo essere di parte non sarebbe stato ingiusto non sarebbe stato ingiusto rispetto a quello che poi è apparso sulla schede perché scusa non ti piace Sebastian il granchio allora io l'ho detto quando è uscita la notizia io non ero in live sì ok c'è stavano altri in live stavano a fare un altro format e io sono entrato solo per dire signori io non volevo andare a vedere la sirenetta al cinema quando ho letto che Mahmood avrebbe doppiato Sebastian eh no sì Sebastian sì Sebastian che canta pure io andrò alla prima ma lascia devo stare lì ma prima scusate ma prima di Mahmood il vi è piaciuta l'estetica cioè flounder pare un pesce che si sta uccidendo con una dose di eroina cioè veramente stanno facendo delle cose a livello di live action che sono una cosa che tu le guardi e dici oddio ma poi è un film che non te lo vogliono far vedere al cinema se tu vai sulla pagina della Disney ogni giorno pubblica minuto e mezzo di clip di una cosa due minuti di un'altra sette inquadrature di un'altra li metti insieme e fatti a pezzi sì sì lo stanno a far vedere a post ma quanti di voi hanno visto il nuovo il nuovo Sebastian hanno pensato a Mr. Krab The SpongeBob ma magari ma magari no edo andarlo a vedere sto film per forza flounder fa paura veramente sembra un pesce drogato sull'orlo del del film ho visto un meme dice c'è la foto di flounder è scritto flounder fatto della stessa materia di cui sono fatti gli incubi è vero è una cosa io no sono che poi hanno cambiato il adesso non mi ricordo mai il nome cos'è il gabbiano no cos'è un non lo so se mi sembra che Sebastian flounder e poi l'altro l'uccello io hanno cambiato proprio l'animale sì allora lascia perdere ok lascia perdere quello che è successo in in originale quelli sono problemi loro ma a me la cosa che mi incuriosisce un botto perché io adesso so curioso solo desta cosa io non non ho dubbi sul resto del prodotto ok so che non mi piacerà la sirenetta indipendentemente dalla lavorazione che stava dietro come non mi sono piaciuto la maggior parte delle action ma io ormai so curioso di sentire Mahmood che canta che canta sì l'ho sentito l'ho vista nella clip pubblicata da Disney ho capito ma l'unica cosa che sa fare è cantare adesso tu sei curioso e anche questo potremmo discutere ho capito ma è cantante Mahmood nel senso io dovresti essere curioso di sentirlo doppiare ma il canto è un pezzo di storia in realtà il canto dovrebbe essere campo suo il problema è la recitazione vedremo vedremo perché sono curioso cioè vedi hanno colpito la mia curiosità con una notizia brutta Manuel ti vedo perplesso su sta cosa non si esprime non confermo sono discorsi già affrontati tante volte una politica questa di marketing che c'entra poco però poi con una buona uscita buona riuscita di un prodotto a livello qualitativo dispiace dispiace perché comunque insomma ci stanno ci sono altri modi anche per fare marketing che ne so Mahmood può cantare e magari Sebastian può fare un doppiatore è certo sì e tra l'altro per esempio con Coco porto questo esempio proprio perché mi è capitato ieri di affrontare questo discorso con Coco hanno fatto un altro ragionamento cioè la parte doppiata della parte cantata erano gestiti da due doppiatori differenti nel caso di Miguel però per il marketing hanno fatto una versione nuova di ricordami cantata da Michele Bravi che comunque non la cantava nel film la cantava solo nei video promozionali quindi si può fare questo ragionamento qua purtroppo non viene fatto io per esempio ho apprezzato la scelta che è stata fatta in Aladdin che poi era la scelta che provarono a fare anche nel cartone animato inizialmente secondo me è giusto è onesta come cosa prendi una persona che sa doppiare e sa cantare e gli fai fare quel tipo di personaggio lì è come se devi fare un musical ma non sai ballare e non sai cantare quindi sai solo recitare non puoi fare musical nel senso o fai l'appendiabiti nel musical o non puoi fare niente capito quindi secondo me alcuni ruoli richiedono delle abilità oh l'appendiabiti sta offendendo il ruolo dell'appendiabiti adesso utilissimo però sindacati in esatto in rivolta comunque visto visto che in pratica la mia domanda è stata letta Manuel ti sentiremo da qui a breve 3-4 mesi in qualche film in uscita tipo Oppenheimer d'un e due non credo che lo possa dire però insomma da qui a 3-4 mesi io immagino che speriamo che sì almeno in un film in uscita dovremmo sentirlo perché vorrebbe di che almeno che non gli muoiono tutti i personaggi nel frattempo tipo Sean Bean poi è nominato proprio due film che se dicessi qualcosa mi arriva a SWAT a casa dal soffitto con l'elicottero cavolo speriamo di sì che poi Oppenheimer ci ha spolierato Marco Mete che sarà il direttore del doppiaggio che è stato il direttore del doppiaggio ha detto lui in live quindi noi possiamo sì però però non è che ha detto l'altro però l'ha detto in live quindi è un'informazione noi possiamo condividere essendo stata detta da Marco si sa metà del cassa di doppiaggio ma questo questo lo dite voi io non so niente di Oppenheimer sì non mi risulta però se lo sapete forse qualcuno ha spolierato qualcosa no magari hanno sentito dal trailer non lo so però non è detto chi doppia il trailer non sempre non sempre tendenzialmente sì però non sempre vabbè un paio di voci si sanno adesso escono D'Andrea Maggi e vabbè grazie se mi prendi il doppiatore storico di un personaggio sì probabilmente allora un'altra domanda è diciamo che c'è c'è un attore che ne ho doppiato altre volte ok quindi forse prendetela prendetela così andate al cinema e scoprite e taggate poi Manuel Nestor esatto che ricordi hai del doppiaggio di Mordred si dice nella serie di Merlin madonna il passato remoto che ricordi anche lì diciamo un personaggio molto ambiguo divertente da doppiare però insomma poi di quelli che ricordo meglio ecco e invece Andrea ti chiede se ti è piaciuto doppiare Harris Dickinson in The Kingsman le origini sì mi piace doppiarlo sempre perché è un attore bravissimo e anche in quel film fa un bellissimo ruolo ed è un attore che seguo spesso anche lui da quando è uscito insomma ok quindi quindi ti è piaciuto e dimmi Luciano no se posso farla anch'io una domanda come no come se non le avessi fatte vai Luciano ma se ti è piaciuto doppiare il personaggio di Fezco in Euphoria cazzo sì eh Verossi ho doppiato ma qui nella serie della con spalletti no no è stato bello è stato bello perché un personaggio con un'articolazione molto buttata molto semplice perché è sempre strafatto e poi è un bel personaggio un bel personaggio positivo mi è piaciuto molto sì e poi e poi anche in un'altra serie è doppiato Magic Johnson cioè eh sì Magic Johnson una serie sui Lakers ma invece che ci dici di Tim Goodman in Detective Pikachu e qua mi viene un'altra domanda qual è il tuo rapporto con i Pokémon perché è stato molto divertente perché con i Pokémon ci sono cresciuto sia a livello di serie TV ma anche di giochi del Game Boy del Nintendo e tra l'altro ho quasi sfiorato il sogno di doppiare Squirtle ma quale finirà ripetuto l'originale potevi essere il verso dovevo fare sì vedi vabbè però la fine l'hanno tenuto ma Detective Pikachu colpa di Lucia beh Detective Pikachu bel figlio sennò mi ha fatto ridere nella sequenza delle domande mettere poi Detective Pikachu che domanda vabbè è figo Detective Pikachu attenzione perché c'è Pietro che dice faccelo ora in diretta il verso allora io ho qualche c'ho qualche Pokémon che mi riesce bene c'è Squirron che fa Squirron 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 poi c'ho Bulbasaur che fa Babasaur Charmander vabbè Charm Charm ma poi c'ho due che mi vengono benissimo che sono Ekans e Gasly Ekans e poi c'è Gasly e poi c'è Geodud 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 raga ma bellissimi anni 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 adesso io vorrò pretendo tutti i Pokémon doppiati da te almeno i primi 150 almeno i primi 150 cioè che erano quelli di Canto no? sì eh dai ci fermiamo a Mew che è Mew eh sì sì beh va bene va bene Standing Ovation direi sia stato bravissimo fate farete una diretta di soli versi di Pokémon eh sì parleremo così non sapranno mai quello che ci siamo detti in realtà però facciamo doppiare tutti i Pokémon da mano è il tipo quello dei Simpsons che doppia tutti esatto che è quello dei Simpsons che doppia tutti non lo sapevo sta cosa non so se ti hanno già fatto questa domanda sì Shameless l'abbiamo già fatta amati no era pure all'inizio nei Looney Tunes era che c'era un in una serie su Netflix che si chiama Smash Saturday Morning All Star Eats doppio questo personaggio quest'attore che è un attore comico che fa stand-up comedy in questa serie fa tantissimi personaggi e l'ho doppiato insomma ho fatto diverse cose è stato molto divertente tra l'altro c'è stata una puntata dove lui fa il doppiatore è stato fichissimo se vi capite ha guardato sì 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 da vedere che poi non era quello dei Griffin non era Seth MacFarlane che faceva praticamente quasi tutti i personaggi nei Griffin nei Griffin sì sicuramente lui sì 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 però di recente avevamo sentito la storia dei Looney Tunes che in originale era praticamente una sola persona che li faceva tutti sì 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 o anche tipo Tonino Accolla nel Principe Cerca Muli vabbè lei era sempre di Matthew professore Matto dottor Dorito sì ah Den Castellaneta che doppia tipo una ventina di personaggi di Simpson sì ma sarà tipo che ne so quando appare il personaggio può essere sì sì allora raga dato che noi non vogliamo sequestrare i nostri ospiti faremo l'ultima domanda a Manuel dopodiché chiuderemo le nostre live come di consueto se Manuel vorrà fare questa cosa e poi ci salutiamo ci diamo appuntamento a domani non con me perché c'è il giorno di riposo però poi vi vedrete con me mercoledì giovedì insomma non sparisco l'ultima scelgo questa perché non ne abbiamo parlato ti chiedo nell'esperienza in Titans a proposito dei supereroi dove hai doppiato Superboy anche lì tipo particolare tutti personaggi strani però a te quello supereroistico sì pure là insomma non si aspetta dice la fusione tra Superman e Lex Luthor che cavolo in realtà un po' un salucchione come dice a Roma però verso la fine figo dai verso la fine diventa un po' fedele ai genitori ecco si riprende un po' verso la fine sì va bene va bene stop a fare domande grazie guys me lo stanno evidenziando anche i moderatori in chat allora Manuel noi finiamo tutte le nostre live se vorrei farlo con un video saluto al canale questo perché perché noi andiamo in live un quarto d'ora prima in realtà ma andiamo abbiamo una nostra sigla che si compone di video saluti dei nostri ospiti al canale siamo attualmente alla quinta sigla quindi è anche un modo carino per ricordare la diretta le persone che iniziano a connettersi ah Manuel Ambedi ha chiamato Sallucchione superbole Salluciano così è figo quindi se a te va mi piacerebbe inserire anche te in questo montaggio allora io guarda ti metto grande ma devo dire qualcosa in particolare puoi dire tutto ciò che vuoi in realtà ne ci è venuto in mente sentendo ciao sono Laura Pausini anche io ascolto Radio Italia te lo dico proprio chiaramente però in realtà in realtà ci sono state anche saluti due minuti e mezzo che ha detto sono tre stronzi non ci verrò mai più che ha fatto parla libera scelta che ha disegnato ha fatto parla puoi dire tutto ciò che vuoi veramente dire e fare tutto ciò che vuoi intanto ti metto grande ecco arriva il momento in cui ti descrive quello che sta per fare esatto perché non l'ho fatto prima quindi adesso mi sento in dovere di farlo aspetta perché mi dà la manina ma non me lo fa mettere grande detto così è un po' brutto effettivamente sì non volevo sottolineare la cosa però sì perché non me lo fa mettere a full screen ah ok eccolo oh ce l'ho fatta layout individuale tolgo il nome per una questione di montaggio no dai passi di montaggio passo la firmata clip speriamo si aspetta meno di Beastmaker ma che cosa Beastmaker buonanotte Mani Mati scusa ho letto Mani ok allora 3 2 1 poi quando vuoi parti 3 2 1 via un saluto agli amici di Man Under The Hood mi raccomando seguiteli tutti ascoltateli tutti pure a Luciano però seguiteli perché sono veramente fichi fidate di me fantastico grazie bellissima 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 Luciano effettivamente tu indisponi però eh cioè sta cosa sì Luciano è anche giuventino esatto giuventino col taglio alla Cristiano Ronaldo gli occhiali tutti fashion mezzi leopardati mi indisponi un po' degli ospiti beh che non mi fido di Aladin eh per forza citando Jasmine sì Marstrux oggi zero con venti letti a parte che te ne sto leggendo uno quindi siamo a quota uno ma poi me le hai evidenziati perché se non me le evidenzi se le domande non vanno evidenzi non me le evidenzi non le leggo quindi aspetta però prima sono curioso di questa cosa mi hai evidenziato almeno un commento che sia una domanda perché se no faccio mea colpa però se non me l'hai evidenziata è colpa tua eh adesso voglio le regole sono chiare adesso mi dice le evidenziati tutti e mi fa fare una figuraccia davanti a tutti i spazi vediamo Marstrux Manuel ci lascia con l'ultimo pokemon inedito a discrezione di Manuel se vuole fare un pokemon che non ha mai fatto in cui si cimenta vuole provare un pokemon vuole provarlo non lo so lo vogliamo in chat voi avete un'idea vogliamo vogliamo provarlo metterlo in difficoltà ce l'ho eh ce l'ho eh ah ce l'hai ce l'hai allora niente ciao va bene va bene vado vai mamma mia bellissimo ma anche l'effetto quello grotta no eh poi c'ho 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 lo studio grande quindi c'è questo eco fantastico fantastico scrivono fantastico risate in caplox ora posso morire felice bellissimo che io voglio dire a sto jigglypuff oh il mio preferito scrive Will vedi vedi hai fatto felice una chat intera Manuel sappi molto bene vedi andrà anche che ride allora noi ovviamente andiamo in chiusura ringraziamo tutti voi che c'ha oh però mica mica mi ha scritto Marstrux se l'aveva evidenziata no si è offeso ormai si è offeso niente adesso mi ha tolto pure il follo mannaggia è già tolto allora su youtube c'è una youtuber che li fa tutti e 150 vedi non lo sapete eh ma non è Manuel e no e non li fa così bene cioè raga è perfetto comunque andiamo a ringraziare tutti voi che ci avete seguito fino a quest'ora come al solito siete fantastici ringraziamo i nostri mod per il lavoro svolto i miei streamer di questa sera Andrea e purtroppo anche Luciano il grazie più grande però questa sera va Manuel che è stato recidivo e speriamo insomma da domani non ci blocchi ovunque su tutti i social l'ha già fatto l'ha già fatto adesso mentre parlavamo va bene grazie a voi grazie mi sono molto divertito devo dire sono volate grazie a tutti quelli che ci hanno seguito molto attenti molto ferrati molto gentili bene bene siamo contenti che ti sia trovato bene insomma che grazie anche ad Esther grazie ad Esther insomma è la sua la sua la crush ha avuto la crush Esther quindi ci aspettiamo grandi cose da questa da questa ship adesso Esther ha clippato solo questo pezzo e se lo riascolterà in loop in loop secondo me sì no che evidenziamo noi i commenti Mars allora guarda ti i commenti scusami Manuel ma rubo giusto due minuti alla chiusura per spiegare questa cosa che può essere anche utile tanto ci ha già bloccato vai che può essere anche utile allora ognuno si deve evidenziare i propri commenti perché si spendono gigowatt che sono i punti canale si acquistano i gigowatt no sono gratis acquisti guadagni gigowatt guardando le dirette quindi più dirette guardi più minutaggio acquisisci più gigowatt hai con i gigowatt puoi fare tante belle cose i gigowatt anche evidenziare le domande per evidenziare le domande vai in basso sulla destra c'è un pallino vicino a invia messaggio ok c'è tipo una faccetta no quella faccetta sono emotico oddio in basso a sinistra c'è il singolo di gigowatt dove cliccandoci sopra ci avrai tante belle cose tra cui evidenzia il mio messaggio clicchi lì scrivi il tuo messaggio la tua domanda perché ricordiamo che questa cosa è solo per le domande e magicamente uscirà domanda viola il commento evidenziato quindi lo sai per la prossima volta io comunque due tre commenti adesso nel finale te li ho letti così sono fatto un po' hai recuperato un po' anche se era colpa tua e noi ci vediamo domani che c'è domani sul canale c'è un let's play ok domani si gioca facciamo part un po' qualche gara con i miei colleghi giocano un po' a kart dei cane giocano a go kart poi ci sarò mercoledì io con un bellissimo jazzman dove giocheremo a guardiani della galassia vi dirò anche qualche chicca mentre giovedì saremo nel talks numero 233 con la voce di star lord a proposito di guardiani della galassia che è Andrea che cazzo è quel coso è il buzzer l'ha fatto uscire così da nulla si è rubato dallo studio va bene va bene grazie mille ancora Manuel è stato un grandissimo a voi ragazzi buonanotte a tutti ciao 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 ciao